eccolo phantom eccolo phantom presenti ci stavamo solo prendendo tempo per aspettare il messaggio di phantom poi si può andare eccolo qua esatto e stavamo aspettando che arrivasse phantom a dire che eravamo in ritardo 8 crutch mindset oh mi mancava mi mancava mi mancava verrò tanta acqua stasera così vediamo se la tosse mi dà pace mamma mia poverotto sei preso con le bombe si dice da noi in Veneto con le bombe magari erano bombe c'è una canzone una canzone dei Pittura fresca ho visto che metti la sigla reggae dovresti conoscere come no ascoltati parecchio da giovani Pittura Fresca come Otto come stai dai poi saluto la chat però adesso abbiamo fatto due chiacchiere offline ma insomma è tanto che non vedo sono proprio contento di riaverlo qua in trasmissione in trasmissione neanche fossimo in tv in live in live in live tutto a posto parecchio occupato cose rugby cose lavoro traduzioni cose varie come ti ho detto no ora mi devo vedere le rimesse laterali del Palermo quindi voi avete capito cioè Otto deve studiare uno dice nella vita che fai io mi studio le rimesse laterali del Palermo sì del Palermo questa settimana mi devo rivedere Lucchesi e Ferrari che mi hanno votato chi mi aveva votato le performance quindi adesso c'ho quello ho visto Munster a rugby ne vedo tanto ne parlo poco faccio poco però ecco tante statistiche c'è una cosa che io non ho mai dubitato in vita mia è che tu veda tanto rugby poche sono le cose sicure nella vita però questa questa è sicuramente una di quelle e tra l'altro la tosse e il rugby la tosse e il rugby la tosse e il rugby ma dove sei sei in Bulgaria adesso no? sì sì sto sul sul carissimo divano non sto in cucina oggi come ero nel video di oggi la location è vero è vero è vero la cucina ho spostato di nuovo sì rossetto come al solito di Mirkadra che l'ho visto all'inizio ha scritto Mirkaze Mirkadra o vediamo per la finale come diventa ogni settimana cambia allora io ne approfitto per fare il primo solito giro di saluti e poi ci buttiamo allora ragazzi oggi tra l'altro non avremo solo 8 non avremo solo 8 ma più o meno verso le 9 e un quarto ci raggiungerà anche Simone Ragusi che probabilmente qualcuno di voi magari ricorda ex giocatore di Treviso e poi gli chiediamo dove però aspetta vado un attimo a memoria credo che abbia giocato a Calvisano se non mi sbaglio a Rovigo adesso l'ho trovato sì ha fatto una stagione agli Ospreis vedo vedo che all'inizio era agli Ospreis poi vabbè dopo li chiediamo dopo li chiediamo tutto perché Prato Rovigo Treviso Petrarca Calvisano nazionale italiana di Seven era stato convocato anche nella nazionale maggiore però poi non aveva esordito dopo li chiediamo dopo li chiediamo e adesso lavora a Leinster quindi credo che ci avrà un bel po' di cose da raccontarci su come si fanno le cose le cose da quelle parti e e parleremo ovviamente di Coppa del Mondo ma parleremo anche di URC Coppa del Mondo parleremo di semifinali parleremo di finale voglio sapere da Otto Otto ci deve svelare la tattica di Erasmus per la finale quanto è forte quanto è forte Erasmus è incredibile è incredibile è incredibile è incredibile e allora mentre aspettiamo Simone Ragusi visto che magari poi questi argomenti li trattiamo un po' tutti assieme Otto e da tanto che non ci vediamo allora io faccio il giro di saluti ma da tradizione mi manca questo da tradizione ti dico i top e i flop per otto stavolta visto che è due mesi che non ci vediamo qua allora a sto punto me li fai di tutto il mondiale fino ad oggi cioè i tre top e i tre flop del mondiale pensaci io faccio il giro di saluti sì ci devo pensare quante cose devo ricordare tanto so che tu mi tirerai fuori qualcosa di particolare allora saluto Mircadra Paolo Delle Prane Mari Cico ciao Mari LM che giustamente dice Otto vedi come ti reclamava la chat Loris Pavanetto Edoardo Calandroni Phantom Phantom che spero tu non te la sia presa per la mia esultanza finale del Benetton quando ho detto quelli che non ci credevano andate tutti a dormire Phantom era uno di quelli che aveva iniziato a rompere le scatole dal quinto minuto e alla fine Treviso invece l'ha portata a casa saluto MVP saluto Stefano saluto Paolo che ti consiglia di prendere otto grappa latte e miele fino alla caccarella fino alla caccarella cioè Manca solo quella Invece Beniamino ci comunica che si è magnato il risotto mele e pancetta cosa vuoi di più della vita il vino metà per sfumare metà per bere insomma ragazzi siete top top MVP che ci parla di Monster Monster è stata una bella partita già belli in palla hanno ripreso da dove hanno lasciato l'anno scorso ma lì non l'Einster e magari poi ne parliamo con Simone visto che lui lavora lì e magari ci dice che cosa ne pensa dell'Irlanda con Simone a proposito di Simone saluto Simone Edoardo Calandroni MVP che dice che le zebri gli sono piaciute nonostante la sconfitta poi ci arriviamo anche su quella a me sono piatti anche a me in attacco però l'ultima decisione insomma è veramente da mettere i brividi ma ho fatto un video oggi se volete anche con polemichetta finale potete andarvelo andare a vedervelo mi sono fatto degli amici in quel di Parma oggi nel video e li tragbitalia ciao grandissimo Samu un altro che non abbiamo in chat da un po' domani magari Samu ti scrivo e chiacchieriamo e vediamo se riusciamo a combinare qualcosa e poi Orazio che dice forza Zebre che quest'anno odoro la svolta odoro la svolta ci arriviamo non voglio sconcentrare Otto dai top e dai flop vai allora mettiamo tra i flop la Georgia pompatissima squadra di tier 2 con più partite giocate contro tier 1 che arriva con due vittorie eccetera eccetera male male hanno fatto delle cose belle giocatori interessanti ma all'agonia secondo me è stato uno tra i migliori ha esordito pure Kakóiz è un altro che a me piace tanto il centro dell'Under 20 c'è il solito David Ninesvili qualche cosa di buono visto in prima linea però ecco non c'è stata proprio la svolta quindi Georgia ha mosciata e leva a Maria Svili a casa però Otto allora iniziamo bello mi piace perché iniziamo subito su una cosa dove non siamo d'accordissimo e mi piace a me avere un po' di così di confronto con Otto nel senso è ovvio che hai ragione tu ossia i numeri parlano chiaro sono arrivati ultimi nel girone quindi non è che possiamo che possiamo considerarlo un successo però qualcosa cioè alla fine la partita con il Galles se la sono giocati quasi quasi fino alla fine e poi hanno hanno perso alla fine l'hanno strappata alla fine la partita con il Portogallo è vero male però alla fine poi la potevano la potevano vincere i primi 20 minuti hanno fatto vedere comunque delle belle cose la vera partita secondo me e anche con le figi e anche con le figi hanno fatto una discreta partita secondo me la vera partita cioè il vero flop della Georgia e ti chiedo Otto se sei d'accordo è la mischia cioè l'Australia li ha battuti in mischia hanno perso fiducia in quella prima partita e e quindi il grande flop è che non c'è più la mischia georgiana cioè proprio non non se ne ma la mischia si è andata male è andata pure con le decisioni prese a pilone sinistro c'erano diversi problemi perché poi usavano loro non c'era con G. Gasvili c'era G. Gasvili che entrava come finisher per lo più per esempio secondo me la partita con l'Australia hanno buttato male proprio male i possessi cioè le decisioni prese loro di fare questi contrattacchi queste proprio come ti posso dire le accelerazioni da lontano senza perdendo un po' d'ordine quello non gli ha servito in tutte le partite il fatto è che col Portogallo è una partita che tu in teoria devi cercare di vincere e devi essere molto più perché sei abituato a giocarci contro le conosci a memoria è vero pure che hanno pareggiato non mi ricordo se era prima del mondiale o l'hanno ancora prima c'era stato il pareggio nella partita però quella è la partita che è la tua cioè quella la devi certificare visto proprio come arrivi perché sei tanto arrivato hai fatto Automation Cup giocando contro l'Inghilterra l'Australia la Francia hai giocato contro l'Italia hai giocato contro la Scozia in diverse occasioni contro il Galles e il Portogallo te lo dovresti mangiare perché sei abituato a un livello successivo quindi l'è andata male proprio sfaldato nel senso del gioco hanno fatto delle cose belle idee ogni tanto però è stato poi un momento di crisi io personalmente avevo cercato di entrare in contatto pure con la federazione e mi hanno proprio risposto non è questo adesso il momento per poterne parlare dopo la hanno risposto dopo la partita contro l'Australia neri ho detto ok poi va via subito Maria Civili che era stato il fautore anche della via se dobbiamo dire proprio della via georgiana del coaching perché dopo Milton Eich era coach georgiano di nuovo quindi quella è andata è andata male sì la mischia si deve ritrovare e ora vediamo quante ne gioca nei prossimi anni la Georgia ad alto livello eh sì perché poi vabbè dopo ne parliamo anche di quello perché oggi c'è stato ovviamente la decisione la creazione della World League eccetera ok allora Georgia poi Australia Australia nonostante comunque sia squadra giovane e tutto quanto gli ha detto pure male di perdere alcuni giocatori di quelli che sarà portato no di quelli fuori selezione Skelton e Tupou in alcune partite ti avrebbero dato qualcosa in più contro il Galles per esempio e secondo me bravo hai detto una cosa che è stata sottolineata molto poco però quella perdita alla prima partita dove erano stati i due migliori capitano capitano secondo me è pesata tantissimo e Tupou era lui che aveva messo in difficoltà la mischia della Georgia aveva fatto una partita clamorosa un passaggio gli aveva fatto assurdo per Donaldson che aveva cominciato bene là si tu perdi peso visto che pure Crowley parlava di peso due giocatori pesanti ma performanti al massimo livello possibile quindi perdi quei due dietro non c'hai un altro Skelton non c'è un Tupou per fortuna c'hai Angus Bell che è stato uno tra i migliori secondo me del mondiale sono forte sono già 3-4 anni di altissimo livello però ecco i risultati non sono andati nonostante abbiano cercato di giocare però ecco quando non concludi e non le fai le mete è finita quindi a Angus Bell noi l'avevamo scoperto quando aveva 17 anni io credo che uno dei primi messaggi che mandai a Otto quando abbiamo iniziato a messaggiarci per Whatsapp fu oh ma hai visto sto ragazzo qua dell'Australia dei Waradas esatto sì c'era lui l'anno in cui usciva pure Tizzano per esempio uno dei in periodo Covid che lì avevano iniziato a giocare tipo i Brambis c'era Quenzel c'era Mackensen stavano uscendo i vari paesami pure Betaglia quindi ce n'erano un po' di di questi qua quindi secondo flop quello terzo flop eh quasi fa quasi fa diverso la situazione perché non so se è più flop magari cioè flop rispetto a che poi è quella la la cosa forse una tra Samoa e Tonga Tonga forse se la devo dire perché col potenziale che vedevi su quella è molto più Tonga che Samoa sì anche se Tonga proprio no perché io Tonga l'ho nominata il mio flop in assoluto del mondiale anche perché eh non solo non hanno rispettato le attese le aspettative non hanno mai fatto vedere il rugby ma poi l'ultima con la Romania quasi quasi perdevano quasi perdevano con la Romania no 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 con la grande apertura che a me piace tanto il fratello di Davide Avili William Avili che proprio non mi piace la mediana non funziona con Jonathan no come si chiama con Agustin Pulu a 9 9 10 proprio male 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 con Pellegrini almeno siamo divertiti un attimo di più l'Italo Samoano che gioca a Coventry però loro male perché poi i giocatori ce l'hai ti è rientrato Moala in teoria all'ultima ma comunque cioè Pitaki di Fekitoa più Tau dietro ti è mancato Folau per infortunio ma già quei tre dovrebbero fare qualcosa il problema è che poi ecco alla sinistra non andava chiunque mettevano non la qualità migliore dell'isolane e quindi ecco con quel popò dei giocatori non hai tirato fuori un ottimo proprio prestazioni proprio prestazioni brutte ok allora intanto saluto anche Silvana saluto Luciano che prevede Aviglial Petrarca l'amico mio ok allora questi sono i tuoi tre flop bene c'erano altri suggerimenti in chat però li leggo magari dopo perché ci possiamo giocare dimmi 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 invece le tre cose che ti sono piaciute di più allora di top mettiamo di top mettiamo comunque storico dopo che erano da anni che non ci arrivava potremmo mettere le figgi nonostante le figgi sono figlie di loro stessi diciamo a livello di risultato perché segui 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 fai segui questo gioco l'organizzazione rispetto al caos e poi però devi segnare con quel popò pure di giocatori loro quel pallone a ratrara non deve cadere le mete le devi segnare di più quindi forse ecco quello comunque le mettiamo dai le mettiamo come top le figgi poi ti potrei le due finaliste come top ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta e dopo dopo con Simone quando arriva approfondiamo ovviamente però ci sta assolutamente le due le due finaliste ti posso fare qualche menzione d'onore cioè la pellaccia vecchia del Galles che comunque è arrivato in un certo modo l'argentina che non me l'aspettavo comunque si gioca un altro terzo posto e anche se l'argentina si si gioca un terzo posto però io faticherei a metterlo nelle top no 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 proprio menzioni squadre che comunque siano tipo veramente delle squadre carambola non lo so proprio un pinball è una cosa strana che hanno preso un bonus l'Inghilterra stessa se ti devo dire un'altra squadra cioè ma chi se lo pensava terza e quarta al mondiale Argentina-Inghilterra cioè io sinceramente no e invece si sono arrivati oddio sì e no nel senso che no guardando i gironi si poteva immaginare che qualcosa potesse succedere di simile però probabilmente entrambe così difficile difficile pensarlo però vabbè se non fossero state loro sarebbe stata tipo Australia sarebbe stato Galles sarebbe stata Fiji comunque arrivavano due da quel da quell'angolo sì no però ecco tutte e due che riescono comunque sia nonostante ecco non hanno mai espresso un gioco di quelli interessanti Massimo ti dire hanno fatto un gioco cinico in generale poi ecco poi hanno giocato meglio alcune partite come l'ha vinta contro il Galles l'Argentina però ecco veramente non me l'aspettavo poi queste sono menzioni no non sono top giustamente Silvana dice che erano erano le favore sì sì favorite dai gironi esattamente quello che dicevamo però magari essendo che erano nello stesso girone si poteva pensare che magari la seconda avrebbe perso con la prima dell'altro per esempio però dai una sì ce la si poteva immaginare in semifinale quanto meno perché diciamo quella che vinceva quel girone lì o Inghilterra o Argentina poi avrebbe giocato con la seconda del girone dell'altro girone e quindi magari ci si poteva immaginare che una delle due una delle due sarebbe arrivata però in effetti tutte e due poi hanno hanno battuto hanno battuto le altre dell'altro gruppo perché poi ecco ci stanno altre cose non abbiamo detto niente l'Irlanda la Scozia che sono state comunque sia una prevedibile l'altra pure perché ultimamente è sempre andata così per certe squadre però ecco loro comunque rimangono quelle più impresse il problema è che il mondiale è talmente bello io me lo sono talmente goduto sto mondiale sono talmente quasi triste che sta per finire anche se e che veramente ogni squadra perché poi il mondiale ti racconta delle storie per esempio Otto dai una menzione al Portogallo la dobbiamo fare Patrick Legis che ha fatto un lavorino come si deve con i giocatori con quello che hanno a disposizione con l'idea di gioco chiara che c'erano già due anni fa quando hanno giocato contro di noi alla fine due anni fa giocavano così era chiaro quello che volevano fare e ora vediamo proprio la follia del prossimo allenatore che hanno preso vediamo come riescono a sviluppare perché loro sono una di quelle squadre che non ha non aveva i soldi con i Lusitanos per fare la Challenge Cup quindi per non entrare in Challenge Cup i Black Lion i soldi ce l'hanno il Black Lion i soldi ce l'hanno e quindi invece è tutta un'altra storia però loro ecco sempre la via del rugby francese per i migliori Storti Simo esce e vediamo qualcun altro se ne esce fuori di buono buonissimo Tager ormai è andato però ecco loro sono parecchi ci sono più portoghesi in pro di due rispetto ai italiani in pro di due tra l'altro pro di due io ho fatto il 15 of the tournament o dei gruppi delle fasi a gruppi e una cosa molto particolare mi erano venuti fuori vabbè forse perché ho premiato magari perché poi ho detto o il Blacks li premio più avanti anche perché nella fase a gironi non è che avessero fatto vedere chissà cosa avevano perso con la Francia quindi con l'Italia troppo facile eccetera e mi erano venuti fuori pensa se non ricordo male 5 giocatori o 6 del top 14 poi 3 o 4 del pro dei due perché avevo messo dentro Tager avevo Ajarza avevo messo dentro Levani Bottia no 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 scusa Bottia ovviamente la Rochelle chi avevo messo dentro aspetta avevo messo dentro Marques avevo messo dentro credo forse lo stesso Storti credo uno Storti magari Marta magari qualcuno così là in mezzo se ci sta poi un figiano un figiano un cileno l'hai messo magari l'estremo secondo centro d'Angulem adesso non me la adesso non me la ricordo se la ritrovo te lo dico ma era era venuta era venuta una roba interessante comunque insomma potete andare a vedere il video avevo avevo messo dentro il un figiano c'era un fig Luke Taggi dice Giulio Taggi bravo bravo avevo messo dentro Taggi bravissimo Giulio grazie avevo messo dentro Taggi che ha fatto secondo me un mondiale strepitoso insomma per dire Pro De Deux alla fine ti manda non lo so ti manda una trentina di giocatori al mondiale di cui di cui 5-6 fanno i numeri alla fine eh eh sì perché alla fine ecco è popolato giocano abituati a tanti ritmi qualità di gioco alla fine e questo questo paga perché poi alla fine sono stati tutti tutti questi sono giocatori che hanno un certo flair no comunque un certo tipo di gioco lo dimostrano di volta in volta quando quando sono sceso in campo sia con la nazionale che proprio con i club perché poi Pro De Deux per chi non lo segue Pro De Deux è folle folle totalmente folle come campionato fasi di gioco multiple cambi di cambi di possesso continui magari diciamo spezzoni di gioco che possono andare sopra i due minuti tre minuti sì sì Capuozza come dice Mirko ovviamente viene da lì da Grenoble esattamente ci stanno ci stanno tanti giocatori poi di qualità comunque ecco questi sono alcuni poi ci sono magari i giocatori che vediamo di meno che magari che non giocano più a livello internazionale ma hanno magari qualità un paio così uno è con Provence Ceruru e un altro diciamo abbastanza forte secondo me Connor Garden Bashop che è l'apertura che gioca anche a a Brive con i limousine appena scesi guarda forse l'ho trovato ci stanno i giocatori adesso adesso te lo trovo così per curiosità mentre aspettiamo Simone allora questo era il 15 della settimana aspetta un attimo che forse l'ho trovato poi che l'hai trovato io nel tempo cerco roba sul Prodi 2 perché voglio vedere un attimo qual è la situazione con i giocatori ecco lì qua perfetto ah guarda guarda l'ho trovato l'ho trovato ti dico chi avevo messo dentro perché perché non me li ricordavo a memoria allora avevo avevo messo al numero 1 avevo messo Andrew Porter ok nella fase a gironi al numero 2 ma eventualmente dimmi se tu avresti preferito qualcun altro vai al numero 2 ho messo vai Porter o Bell a uno o Bell o Bell difatti i tanti hanno messo Bell qualcuno ha messo anche Bile nel nel al numero 2 ho messo Tagère perché cioè uno che ti fa intanto Tagère ha fatto quasi tutti i minuti di tutte le partite che ha giocato è uscito sempre in standing ovation e poi uno che ti fa quel calcio lì nella partita bello preciso che aspetta e calcia Tagère nell'ultima partita della sua vita nell'ultima partita della sua vita uno che domani può anche morire come ha detto esatto esattamente esattamente poi al numero 3 avevo messo Luke Taji eh sì sì allora Penny Ravai Taggi loro mi sono piaciuti entrambi però sì va bene al numero 4 avevo messo Tygburn sì sì oppure ah guarda ok dimmi il 5 e Theo McFarland ok allora io avrei messo il no vabbè a me è pieno tanto Simoes del Portogallo per esempio ok avevo messo lui a 4 e 5 Simoes McFarland ok un po' così un po' di pazzia follia poi terzelina avevo messo te le dico entrambe perché gli ho cambiato la posizione avevo messo Levani Botia e e e Jack Morgan eh sì due maledetti due maledetti così hanno fatto bene bene alla fine quella parte ci sta sì Jack Morgan mi ha fatto impazzire ha fatto un torno è pazzesco con il 22-22 con il cross kick per la meta poi numeri placcaggi quantità di placcaggi numeri infiniti e Levani Botia tirava su tutto cioè appena si avvicinavano a lui qualcuno in stanza lo ha definito la ruspa umana Otto la ruspa umana sì mani ovunque ha fatto veramente un mondiale a livello come si possa la finale di Champions Cup sempre qualità tanta qualità libro per eccellenza 12-7 numero 8 avevo messo Gregorio Aldritt numero 8 Gregorio Aldritt oddio mi sa di sì ciao Simone eccolo ciao 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 siete microfonati siamo microfonati no ma ti si sente ti si sente tranquillissimo si sente si sente bene si si forte e chiaro forte e chiaro tutto bene allora adesso benissimo tu come stai da dove sei da Dio sono di fretta come sempre ma tutto bene sono in Irlanda sono a Greystones vicino a Dublino fantastico fantastico sei riuscito a mangiare qualcosa dopo allenamento o ti ho fatto fare i no no non è problema vengo da una riunione di quelle da Lavagna dove si sta tutto il tempo a discutere come deve difendere il 9 come deve se attaccano i uomini in chiusa come reagiamo tutto quelle che piacciono a 8 quelle che piacciono a 8 quelle riunioni secondo per chi piacciono a 8 come? allora ragazzi cerco di di prendere il filo della chiacchierata non so Simone se ti è mai capitato di vedere questa beh l'hai vista come un pippo quindi insomma questa chiacchierata del martedì è un po' una chiacchierata a 360 gradi sul sull'attualità reggistica però magari andiamo anche un po' perché è veramente intanto un piacere riconoscerti e poi ovviamente immagino che alla chat ti interesserà tantissimo anche sapere un po' la tua esperienza che cosa stai facendo lì in Irlanda eccetera eccetera quindi cerchiamo andiamo un po' sull'attualità e un po' sul sul tuo racconto se ti va certo certo innanzitutto è un piacere per me e ti ringrazio per l'ospitalità ovviamente io sono qua perché alla fine perché ho fatto un tweet sulla l'ultima live con Pippo che reputo senza senza vergognarmi forse il migliore in Italia per 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 analisi e per la capacità di esprimere concetti la capacità di di essere di aggiornarsi la comprensione della lingua del regbistica perché poi si parla in inglese ma poi il linguaggio regbistico è un inglese regbistico ecco Pippo mi sembra l'unico in Italia che che si espone pubblicamente che che lo sa fare molto molto bene e che poi dopo ha anche una certa credibilità perché ha anche un certo curriculum come come allenatore ha allenato le migliori scuole d'Italia ha giocato anche in nazionale quindi io ho avuto modo di di essere allenato da lui e quindi posso anche testimoniarlo in prima persona ecco allora fantastico dopo andiamo e ci racconterai meglio stavamo facendo un gioco con Otto io stavo dicendo il mio 15 delle fasi a gironi e Otto mi stava dicendo se era d'accordo o se non era d'accordo del mondiale quindi se a te non spiace io lo completerei e ovviamente aggiungerei anche la tua diopinione quindi insomma eravamo arrivati alle terzeline e io avevo detto che io avevo inserito Bottia e Jack Morgan Otto ha detto che era d'accordo stiamo parlando delle fasi a gironi non le fasi eliminatorie poi parleremo delle semifinali dei quarti delle semifinali delle finali tu metteresti qualcun altro tra i flanger forse Dutoit forse beh Jack Morgan è una bella chiamata anche Bottia secondo me beh io sono anche io dell'idea che ho sentito l'ultima intervista penso che Zuliani sia veramente uno uno dei voglio pensare il flanker migliore al mondo al momento e penso che per statistiche e per quello che ha fatto mamma mia qua abbiamo un endorsement qua abbiamo degli endorsement per Zuliani grazie ma è vero forse chi potremmo mettere allora secondo me se prendessimo tutto cioè se arrivassimo fino ad oggi perché in effetti stavamo facendo i gironi ma possiamo ampliarlo tanto il mio ormai lo sanno quindi possiamo arrivare fino ad oggi e probabilmente ampliandolo entra dentro questo signore che dice Simone Sam Cain probabilmente eh sì sì Sam Cain anche diciamo che ha dimostrato di essere il Sam Cain che che tutti si aspettavano questo mondiale probabilmente e anche discutendo un po' con alcuni ragazzi qua neozelandesi che hanno a che fare con con certe personalità dicono tutti che è molto amato nel gruppo e che è un vero leader e diciamo che ha confermato le sue aspettative pesanti che aveva dal post smecco no e comunque sì specialmente nel breakdown si è rivelato un un grandissimo un grandissimo flunker metterei anche Ben Earle però ha giocato più otto che che flunker stiamo parlando di flunker no? sì sì stavamo parlando dei due flunker sì adesso poi arrivo all'otto ci sta ci sta perché l'Inghilterra ha fatto anche Courtney perché l'Inghilterra diciamo è un gioco che è basato sul 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 box kick no? entrambi hanno un un ruolo fondamentale eccolo qua un ruolo fondamentale nel nel gioco dell'Inghilterra che è studiato ed è pensato proprio per 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 andare a cacciare questi palloni e loro mi sembrano molto consapevoli di quello che fanno ecco totalmente assolutamente allora io all'otto durante la fase a gironi cioè perché siamo partiti da quello però ampliamolo dai ampliamolo fino ad oggi perché così ha anche più senso durante la fase a gironi io avevo scelto Gregory Aldritt probabilmente questo nome cambia oggi io ho già in mente chi è per me l'otto del mondiale almeno fino ad adesso vediamo se è lo stesso che mi dite voi otto tu chi mi dici? io ti metto Savea a numero 8 ti metto Savea a lui perché alla fine è sempre presente pesantissimo difficilissimo in tutto quello che fa ha fatto pure ecco se prendiamo dai gironi pure il calcetto oltre la prima linea contro la Francia che poi segnano contro proprio i padroni di casa là pure è un'altra chiamata importante quindi si dai è lui perché pure è quello che c'è sempre diciamo nella chiamata a flankerio ti aggiungerei qua Gasmeet un altro dalla panchina tipo Zuliani esatto lo si può mettere slash Zuliani perché entra dalla panchina due animaletti così sì sì Savea anche secondo me è uno come dici te che c'è sempre che adesso è anche un po' l'icona di questa nuova Zelanda no? io aggiungerei Killian Doris perché nel gioco formidabile dell'Irlanda è una pedina fondamentale lui sia per l'Enster che per che per che per l'Irlanda ha una capacità di comprensione della struttura che che fa paura secondo me è veramente tanto intelligente e ha anche qualità di leadership e insomma secondo me è un punto è un perno del gioco dell'Irlanda fantastico allora vai io al nove ovviamente si parlava di fasi a gruppi e avevo messo Samuel Marquez perché a me il Portogallo mi aveva esaltato e lui è stato veramente il motore del Portogallo cioè poi ne sono spiccati altri anche tipo storti però lui era il motore proprio quel mediano di mischia che non molla mai che no non molla mai poi sempre imprevedibile era proprio veramente il motore del Portogallo ovviamente adesso i nomi sono altri chi mi sparate chi mi sparate dai dai velocizziamola così poi parliamo un po' Aro Smith te la sparo così 36 37 anni quanti ne ha quanti mesi ha fatto due assist non so quanto ha la capacità di dare un ritmo incredibile qualità di passaggio anche lì leadership che è una cosa che non è nelle statistiche ma che pesa a quei livelli ecco Aro Smith via buttata lì ci sta ci sta considerando che poi dietro a Finley Christian Roigard che sono comunque due giocatori che hanno dimostrato di essere ci sta Otto tu cosa dici si Aro Smith poi è stato il più continuo sempre come come si aveva no è quello che alla fine è arrivato più in fondo c'è stato sempre e ancora c'è il canto del cigno l'ultima partita nazionale tra l'altro la finale e poi parto in Giappone poi parte in Giappone esatto gli faranno l'H come gliel'hanno fatta nel club per salutarlo e quant'altro va bene dai allora nell'apertura io avevo messo Sexton però era la fase a gruppi avevo messo Sexton perché per me era comunque vogliamo Simone vogliamo ragazzi intanto c'è uno che ha un audio acceso perché fa un rimbombo se riuscite io no ok adesso adesso no però adesso no ok allora e qua voglio voglio sentire Simone visto che sta alle Inster cosa si dice cosa si dice su Johnny Sexton in generale sì come stanno vivendo come state state vivendo allora io è difficile farla breve però ci provo falla lunga falla come vuoi tutti ascoltiamo con grande attenzione esperienza incredibile vivere un mondiale in Irlanda con questa Irlanda qua fortissima che ha credibilità che arrivava prima nel ranking che veniva da un tour dove aveva battuto gli All Blacks che viene da un Six Nation grande slam Winto che viene da Lancer che è quasi imbattibile e con questo Johnny Sexton che sta diventando una leggenda che lo è diventato una leggenda gli irlandesi sono molto sono molto attaccati al rugby non è lo sport nazionale perché è il quarto sport qua però è lo sport che va di più in termini di risultati e quindi vivere aver vissuto ogni partita nelle clubhouse qua è stata una cosa eccezionale Johnny Sexton è amato è amato da tutti non è sicuramente come secondo me è anche amato all'estero poi a qualcuno può dar fastidio qualche atteggiamento ogni tanto ma in realtà lui è una persona squisita io non lo conosco personalmente però a detta di molti è un signore è una persona con cui è bello fare due chiacchiere ed è uno che da sempre ha sempre dato tutto per la maglia mettendosi quasi mai davanti a questa ecco è sempre stata a disposizione per la squadra penso che non pesi neanche 80 kg e ha sempre messo giù l'uomo questa qua è un'altra cosa che gli va riconosciuta al di là di tutte quelle parti dell'attacco che poi sappiamo già che lui ha e il fatto che lui non abbia potuto diciamo coronare questo sogno a tutti gli irlandesi secondo me a lui dà tanto fastidio ma non tanto per lui ma proprio per l'Irlanda perché è un paese molto regmisticamente parlando è un paese molto unito e Johnny Saxon poteva stava poteva creare quel qualcosa che qua in Irlanda non era mai capitato e qua se lo aspettavano quest'anno era l'anno buono e ci sono rimasti molto molto male io ho visto la partita qua nel mio club ci saranno state forse un migliaio di persone la clubhouse è molto grande divisa in due c'era quella dove si fa casino e quella dove si fa ancora più casino e praticamente ti dico soltanto che durante l'ACA è partito field of hunting try non so se la conoscevi la canzone field of hunting try c'è roba assurda e tutta la partita ogni placcaggio esultavano ma non è che è fortissimo ecco questo è come gli irlandesi hanno vissuto il mondiale dopo le famose 38 fasi al fischio del tenuto di white lock c'è stato un silenzio per due minuti la gente non si alzava dal tavolo per due minuti nessuno parlava nessuno si guardava negli occhi tutti che guardavano lo schermo le tante ragazze tante che piangevano ecco io una roba del genere del rugby non l'ho mai vista e penso che forse solo in Nuova Zelanda è possibile avere qualcosa di simile dal punto di vista di condivisione della società intorno al rugby perché io ho vissuto anche in Galles un anno è sentitissimo però ti devo dire la verità come qua in Irlanda ecco è diverso ah sì 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 qua è più non so c'è qualcosa di più anche gli irlandesi che si muovono in 60.000 seguire sia l'Irlanda che Munster che Lancer che vestono tutti la maglia nuova appena uscita cioè non so se avete notato allo Stade de France che c'erano i famosi 60.000 irlandesi che cantavano zombie erano tutti con la maglia nuova dell'Irlanda con il colletto questo qua tutto tondo che appena era uscita tutti la criticavano dicevano che schifo questa maglia è troppo chiara c'è il colletto che fa schifo tutti che l'hanno comprata hanno una passione culturalmente sono fatti così ecco quindi è difficile non farlo andare bene chissà se ci credevano di più loro forse viene da me sto ritorno perché quando parli tu non si sente aspetta un attimo che provo ah perché forse non è che avete per caso youtube aperto con l'audio aperto da qualche parte uno di voi due io no no io nemmeno io solo e poi ero in muto fino ad adesso ma c'è qualcuno che si lamenta? no beh lo sento anch'io e poi qualcuno ancora ha scritto ha scritto che c'era un ritorno fastidio vabbè provo poi a cambiare il microfono io comunque chissà se ci sono stati più male gli irlandesi o i francesi è dura è dura è dura perché perché io ho visto ho visto delle trasmissioni francesi con gli analisti piangere in trasmissione cioè è incredibile come la sentivano era il loro mondiale era quattro anni che lo preparano per l'Irlanda era quello dove arrivavano da numero uno mamma mia sti sudafricani e sti all blacks come gliel'hanno giocata incredibile 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 eh sì era il loro mondiale scusami Otto stai parlando no 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 che bello nel senso c'è tutta quest'epica che va qualcosa che viene distrutto alla fine non sogno che viene distrutto però ci sono altri sogni che vanno eh quella è la cosa proprio assurda no come potesse l'Inghilterra l'hanno quattro anni fa che ci arriva ci arriva male brutta, sporca e cattiva che ce la quasi fa fino all'ultimo secondo però ci sono sempre sti orchi sudafricani che alla fine non vediamo contro i cavalieri neri che combinano però no veramente è strano perché lì poi alla fine sarà la sfida per il padrone del mondo nel senso che tre mondiali a testa quindi adesso chi c'è da più lungo si deciderà questa volta qui insomma sarà sarà particolare va bene ragazzi avevamo iniziato sto giochino ma sto giochino è eterno quindi insomma apertura chi mettete figa è difficile guarda a me uno che mi è piaciuto comunque nonostante non ci è arrivato in fondo secondo me c'è Jalibert a me è piaciuto tanto a me è piaciuto Munga però Jalibert potrebbe essere uno di quelli che magari non perché c'è pure tanta pressione alla fine lui ha fatto sì però ha fatto una brutta partita nel quarto di finale il quarto di finale l'ha proprio fatta bruttina 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 Jalibert secondo me un altro se no andiamo sempre sui classici diciamo io dico io dico Munga dico anche se non ha giocato tantissimo ma quando ha giocato ha giocato bene e partite pesantissime poi dico per chiuderla Bodenbar scusami Jordi Barrett 12 Nicey Value 13 bravo falla tutta che se no questa è eterno Will Jordan Lala anzi forse scusami io mi prendo Jordi Barrett e Aki come coppia di centri anche se sono due 12 sono con te sono con te Vallo lo schiero Lala scherzo ti manca un ala e l'estremo un 11 e un 15 Will Jordan l'ala ovviamente Peno l'altra l'estremo l'estremo Bodenbar Bodenbar però in realtà Thomas Ramos ha sbagliato completamente il quarto di finale secondo me gli estremi outstanding davvero non ce ne sono stati perché anche Bodenbar non è che abbia fatto un voto mondiale no però non all'altezza magari di quello che ci si possa aspettare da lui da quello che è stato in passato è stato secondo me lui sta giocando benissimo dal punto di vista sta giocando molto pulito rischia di meno del passato quando ha tentato la giocata spesso gli è venuta non l'ha tentata così tante volte come ci aspettavamo noi ecco se ti devo mettere un estremo vero vero che per me è davvero il più forte al mondo che fa panchina è McKenzie che fa un po' il 10 un po' l'estremo e per me lui è il giocatore il più forte al mondo in quel ruolo al momento ha una consapevolezza e una facilità di gioco che è unica e che impressionante secondo me mi ricordo cioè è allo stesso livello di Dupont di Odriscoll di questi giocatori qua secondo me interessante interessantissima opinione no no ma ci sta ci sta Otto completami la tua perché se no ci incagliamo qui fammela fammela 12 12 di Allende 13 Nayakalevu parecchio 14 si Jordan 15 15 a me piace come ha giocato alcune partite non l'ho mai visto così bene diciamo Wilhelm è piaciuto il Sud Africa sempre dice Wilhelm poi dicono Marcus Smith dicono Freddie Stewart ecco Stewart è l'altro io non ho detto Wilhelm perché mi aspettavo un po' di più da lui poi per questo perché so che è che è stato quello che mi ha certificato si è forte veramente non è solamente skill non è un baller solamente ma è qualcosa di più e la mia è sembrato molto più completo perché lui è sempre il dubbio perché lo mettono 10 12 15 sempre il giro di Peppe vediamo il prossimo ciclo che farà stiamo parlando delle mie squadre mondiali dobbiamo prenderne uno è difficile è facile ci siamo incagliati in questo gioco perché ho detto mentre aspettiamo Simone divertiamoci poi è diventato eterno è un ala buono l'ala non lo so proprio chi mette da quella parte a sinistra ti manca un ala ti posso mettere io peno Jordan facile dai ben Jordan facilissimo peno peno colbe 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 e gli ha stoppato anche il calcio la partita che me l'aspettavo di colbe la mossa metto mettiamo a lui dai se no allunghiamo tanto comunque Will Jordan sicuro Will Jordan sicuro e poi dall'altra c'è tutta una serie di candidati però colbe ci potrebbe stare colbe ci potrebbe stare allora intanto andiamo da Simone perché Enrico dice ma quanto era bello da vedere in campo Simone Ragusi quando giocava a Rovigo e allora Simone vai 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 no no sta facendo una battuta no cosa dicevi falla falla poi quando sono andato a Petrarca non era più bello per lui ovviamente allora Simone per chi magari non ti ricorda io ad esempio ognuno ti ricorda nelle sue squadre io ti ricordo a Treviso c'è chi ti ricorda Rovigo c'è chi ti ricorda Padova sei stato anche nazionale 7 sei stato credo anche convocato in nazionale maggiore no? io penso di avere un record che hanno di cui non mi vergogno è che sono stato per otto partite uomo di scorta senza mai senza mai esordire è questo è comunque un ah o si fosse fatto male uno una volta è il fatto che ho sempre giocato diversi ruoli è un po' come dare adesso non si sa esattamente che ruolo è quindi magari lo si lascia come ventiquattresimo uomo però allo stesso tempo aver partecipato a un sei nazioni test match di novembre mondiale in Inghilterra preparazione mondiale in Inghilterra non è una cosa da poco preparare queste partite è una cosa che comunque ha il suo valore e si impara molto soprattutto poi avrei potuto fare molto di più ma 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 sono molto contento di quello che ho fatto ma tu adesso stai ancora giocando o ti stai dedicando solo all'allamento stai anche giocando sto giocando sto giocando sto giocando in AL che all in Ireland League sarebbe il campionato tra le due Irlande che è un buon livello ok l'anno scorso allenavo anche quest'anno non l'alleno e sono contentissimo perché la prima stagione della mia della mia vita da adulto dove non dove non ho un ruolo cioè dove sono volontario io sto giocando come volontario poi alla fine mi hanno preso sono venuto anche perché mi hanno dato il lavoro ecco mi hanno aiutato con la scuola mi hanno trovato una scuola dove allenare che qua il rugby nelle scuole è importantissimo e allenare nella senior cup team nella squadra della scuola è una buonissima cosa ho fatto leva sul fatto giocatore per chiedere un posto buono come allenatore ecco fondamentalmente ok ok perché ti avevo visto Simone sbirciando un po' i social e quant'altro ti avevo visto che mi sembrava fossi nella struttura dell'Einster o sbaglio forse l'anno scorso forse sì 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 allora io sto facendo raccontaci come funziona come funziona l'inirlanda raccontaci è difficile da spiegare specialmente in poco tempo allora ti dico quello che mi occupo io perché se ti devo raccontare come funziona si fa fatica allora io fondamentalmente ho un contratto con l'Einster dove mi occupo se lo faccio da tramite tra il mio club e l'Einster ok dove mi occupo della della qualità degli allenamenti degli allenatori e della promozione del rugby l'Einster nelle scuole ok io vado personalmente nelle scuole secondary school quindi le scuole per i ragazzi e poi una ragazza sotto di me che gestisco che va nelle primary schools ok che fa promozione quindi al posto di fare educazione fisica quel giorno lì due o tre ore fanno due ore di rugby ok che abbiano 7, 8, 10, 12 o 15 anni fanno rugby questo accade nelle scuole dove che non sono rugby schools ok ci sono 27 rugby schools in tutto l'Einster dove già c'è uno staff di allenatori professionista che prepara i giocatori come se fossero una squadra professionista per poi farli giocare nella nella Lega e poi nella Cup se si qualificano io nel frattempo alleno anche in una rugby schools che sarebbe Presbury dove che è situata a Brea appena sotto Dublino ed è una scuola che è l'unica scuola pubblica che compete contro tutte le scuole private quindi tra le 27 è l'unica pubblica e ha vinto anche delle Senior's Cup che è un achievement incredibile qua in Irlanda e perché diciamo a detta di tutti è lo school system più performante al mondo forse insieme a quello del stavo leggendo Simone che scrive madonna 27 rimi scusa da noi se hanno la buca del saldo in lungo è già tanto no ma è già tanto sul serio perché vuol dire che hanno una cosa di atletica no aspetta scusami un attimo mentre lo dicevo stavo pensando perché ormai sono abituato ormai ho la mentalità di qua stavo pensando soltanto 27 perché se pensi c'è una popolazione di Dublino e Leinster pensi che siamo su due milioni di persone 27 scuole cosa sono perché in realtà ce ne sono un centinaio soltanto in 27 giocano perché e laddove laddove non c'è uno staff professionista cioè quindi dove si allenano dopo scuola 3-4 volte a settimana laddove non succede questo interviene Leinster ok che quindi paga delle persone di Leinster e gli fa gli da la qualità dei propri allenatori con il fine di fare promozione quindi portare il bambino di 8-9 anni che torna a casa felice dalla mamma mamma voglio giocare a rugby la mamma dice ok qua siamo a Greystones c'è il mio contatto mi chiama io do il contatto del director del Junior Rugby e è fatta ok tra l'altro qua c'è MBP che dice oh che bello un altro italiano alla AAL anche lui giocava lui giocava 12 nel Lancedown grande tra l'altro MBP è un grande è un partecipante della community dal primo momento ed è veramente molto molto competente c'è un altro italiano che gioca a Samary College che sta è così sta passando 3-4 mesi così perché Sexton c'è la piccola possibilità che vada a fare qualche partita al Samary perché è il suo club no? perché è il suo club ok 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 prima di ritirarsi quindi fa come i neozelandesi che va di Irlanda è un club fighissimo lui è felicissimo si chiama Leandro Ramirez Ex Rovigo bravissimo ragazzo e c'è la possibilità capisci che lui gioca alla gioca centro così se si ritrova a giocare con Sexton Tutti in lupo Eh l'otto lo fanno in Nuova Zelanda ad esempio o in Nuova Zelanda spesso quando anche nelle pause o se ritornano da un infortunio l'ha fatto Dan Carter vanno a giocare con quello che loro chiamano club rugby ed è proprio bello perché lo vedi proprio come le vivono è una cosa che in Italia forse manca questo la connessione ogni tanto la creano in maniera artificiale cioè portate le magliette del club però che ci sia una vera connessione con il club formatore secondo me sarebbe bello che anche in Italia venisse ma perché in Italia non facciamo veramente club adesso riesco a fare un po' con la collenica però è vero cioè il fare club il concetto di fare club italiano non è così ricco come è veramente dovrebbe veramente essere nel mondo rugbystico capisci cioè diamo troppo valore alle cose sbagliate ogni tanto ad avere la tribuna ad avere lo spogliato di un bello mentre fare club vuol dire creare un'identità che rimanga per sempre quindi celebrare i propri giocatori che fanno successo e celebrare gli allenatori mettere targhette ovunque dei presidenti mettere targhette di chi ha donato così a caso 20.000 euro per rifare la staccionata intitolare la palestra nel nome di una persona che si è comportata benissimo e queste cose rimangono in Italia facciamo fatica a creare questo tipo di legacy guido ci segnala che ad esempio quest'anno qualche giocatore è tornato al club di diciamo di formazione come Sgarbi è tornato a giocare al Villorba semenzato quest'anno è passato a paese magari magari è una cosa che si riuscirà a costruire bene allora ragazzi io dopo questo passaggio da Simone tornerei un po' sull'attualità perché ci sono state le semifinali e allora chiederei a Otto e poi ovviamente anche a Simone facciamo una partita alla volta e poi le uniamo facendo un po' la preview della finale allora iniziamo dalla più forse veloce da toglierci di mezzo però Nuova Zelanda Argentina però insomma c'è qualcosa da dire soprattutto sulla Nuova Zelanda secondo me Otto che cosa che cosa hai visto allora politici è importante la maniera con cui ha affrontato comunque sia la la partita è arrivata da la squadra che era comunque sia quella che doveva vincerla e l'ha vinta in maniera convincente secondo me c'è stato sì si è visto un po' di tutto della degli All Blacks si è visto l'attacco da casa quindi da dentro magari 22 da appena fuori da 22 in attacco si è visto il set piece con la scelta all'ultimo secondo per dare il pallone giusto nell'ultima meta si è veramente visto di tutto si è visto un ottimo Rosemite che l'abbiamo nominato prima quindi ecco arriva con il mindset giusto con tutti i giocatori integri fisicamente perché ce li hai tutti a disposizione e questo ti aiuta nella maniera come ci arrivi l'Argentina non ce l'ha fatta era impossibile diciamo come una scala come ha detto Chesada visto che me l'ha linkato Phantom Chesada ha commentato la partita dell'Argentina dicendo è sempre una partita di rugby si può magari sfangare però ecco l'unica cosa incomoda che può avere la Nuova Zelanda contro l'Argentina è il bus per arrivare allo stadio mi ha detto proprio questa cosa come per dice l'unica cosa scomoda stavo attivando e disattivando il microfono perché si sente un storico eh sì secondo me vado a prendere le cuffie ah bravissimo e allora risolviamo ormai tecnici audio da lontano prendi le cuffie eh sì le cuffie salpano la vita vedete quell'intanto Razzo dice ma chiede l'italiano a Semmeri sono due anni che mandiamo i ragazzi al campo estivo dell'Aister c'è andato anche mio figlio al campo estivo dell'Aister dalla Spagna Razzo mi devi dare informazioni perché a me mi hanno chiesto il signor Ottavio mi ha chiesto informazioni tu immagini un Ottavio che chiede a un Ottavio tu pensa mi ha chiesto bene Razzo ti scriverò tra domani e dopo domani al riguardo eccoti qua grande tutto sistemato vai credo che non ci sia più l'eco però non c'è più l'eco ma non c'è più nemmeno Simone eccolo qua eccolo qua perfetto perfetto ci sono ci sono vai grazie intanto c'era qualcuno c'era Orazzo che chiedeva ma chi è l'italiano al Semmeri sono due anni che mandiamo i ragazzi al campo estivo dell'Aister tra l'altro ci andò anche mio figlio qualche anno io quest'anno ho allenato ho allenato lì ho allenato lì anch'io quest'anno c'erano degli italiani era pieno anche spagnoli anche mio figlio io vivo in Spagna vivo a Barcellona e mio figlio andò al campo estivo dell'Aister ma quest'anno è venuto? no 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 quattro anni fa quattro anni fa quattro anni fa ah ok ok sì 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 pieno di spagnoli pieno infatti io ero una risorsa perché quelli che gli irlandesi che parlano soltanto inglese facciano fatica quindi mi mandavano tutti gli spagnoli cioè tanto se parlano inglese esatto e tu invece Simone come l'hai vista l'hai vista le partite sì l'hai vista le semifinali certo allora come dicevo prima l'ho vista in clubhouse dopo partite quindi sai quando ti arriva anche il signore di 70 anni che ti inizia a parlare che fa fatica a fare un'analisi dettagliata di una partita però scusa se ti interrompo un attimo ma ci sono dei tuoi allievi eh Rosato dice Simone era uno dei miei allenatori al campo dell'Eister grande Achille ciao Achille ah ah l'hai riconosciuto dal cognome è grande è grande sì 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 ma lui è lui sarà un bravissimo giocatore e lo è lo è già lo è già New Bridge College comunque dicevo non è non l'ho riguardata ecco non l'ho riguardata la partita però eh la 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 Nuova Zelanda ha fatto la Nuova Zelanda secondo me quando la Nuova Zelanda fa la Nuova Zelanda io sono dell'idea che al momento non ce n'è per nessuno ed era anche quello che dicevo qua io spudoratamente spavaldamente in Irlanda davanti a tutti gli indesi dicevo che che ragazzi qua va bene che voi siete primi nel ranking va bene che ma questa c'è la Nuova Zelanda che fa la Nuova Zelanda sta facendo la Nuova Zelanda non siete non siete i favoriti e infatti è andata così poi che l'Irlanda sia una squadra è vero però a me fa impazzire io sono uno come Pippo Frati sono uno che si è fatto molto influenzare e che si sta facendo influenzare molto dalla dalla filosofia dal culto nord-zelandese io mi mi ispiro a loro ecco da sempre è una cosa mia naturale che da quando sono bambino guardo gli All Blacks in maniera diversa da quello come quando guardo Sud Africa o l'Inghilterra e sono sempre stato affascinato da questi e dal Galles anche Galles e Nuova Zelanda mi hanno sempre affascinato ma quindi Simone Nuova Zelanda-Irlanda ma per chi è che ti favi io allora io non ti favo nessuno speravo che vincesse l'Irlanda ok perché perché speravo di rivedere una semifinale e poi magari anche una finale in mezzo al casino che si fa in Irlanda tra gli irlandesi e festeggiare e passare un memories no purtroppo non è andata così d'altro canto nel predictor che faccio sul sul sito del World Rugby avevo messo Nuova Zelanda più due alla fine è finita Nuova Zelanda più uno perché vedevo due squadre le più forti al mondo probabilmente doveva essere la finale e c'è il Sudafrica che è anche dell'Irlanda ovviamente e secondo me hanno entrambi dimostrato nell'ultimo anno ma anche nella World Cup di essere meglio della Francia nonostante nonostante la Francia abbia battuto la Nuova Zelanda parere personale Nuova Zelanda ha fatto la Nuova Zelanda con il loro gioco semplice non troppo pensato giocato alla situazione con le basi solide e i giocatori in grado di identificare sempre lo spazio e metterci la palla attraverso delle strutture semplici nel loro 1-3-3-1 con tre playmaker in campo Mounga Barrett e Barrett mi viene tutto facile cosa può andare male cosa può andare male esatto gli avanti gli avanti sono intelligentissimi per via del fatto che sono educati benissimo fin da quando sono bambini e sanno giocare a rugby come probabilmente come noi in Italia mangiare degli spaghetti e quindi quando li vedi giocare se fanno a Nuova Zelanda gli viene tutto facile io come ho detto prima penso che in questo momento c'è il Jordi Barrett che è outstanding proprio secondo me ha uno stadio di forma incredibile in tante in tante fasi di gioco attacco e difesa ma è intelligente anche proprio come si muove spesso siccome ha fatto tutto d'estremo è andato a coprire dietro ha fatto delle cose che mi sono piaciute spesso da primo c'è il ricevitore e si vede che è completamente a suo agio e fa la differenza questa cosa poi hai McKenzie in panchina che è un fenomeno per fatica Kane che è ritrovato Kane che oltre ad essere ritrovato tecnicamente come dicevamo prima è il leader in discorso l'unica cosa che guardano a parte Will Jordan che è super che adesso magari farà anche il record comunque al di là di questa cosa l'unica cosa che veramente non mi convince degli All Blacks è Telea e Fai Nganuku che secondo me non sono non sono da All Blacks ecco ho questa sensazione cioè per come per come per come giocano gli All Blacks per come per i giocatori che solitamente hanno gli All Blacks Telea cioè di solito hanno giocatori che sono triple threat sanno fare staccare calciare un James Low ci starebbe meglio visto che era loro se non lo facevano scappare sì sicuramente per me Telea è molto rapido è bravo negli spazi brevi così però non mi sembra che un giocatore estremamente intelligente che sappia davvero adattarsi ad ogni situazione Fai Inganuco invece mi sembra un po' più limitato al di là del gioco senza palla ecco del gioco senza palla sei d'accordo Otto su questa di Telea e Fai Inganuco su Telea sì perché Telea è più animale d'attacco più che giocatore completo questo è il limite pure dei blues in generale che hanno due animali d'attacco ma poi su altre cose perdono vedi il gioco al piede uno dei tanti problemi che poi non si vede perché poi c'hai tre playmaker significa c'hai pure tre piedi più il piede di Jordan che è un estremo ala quindi ce l'hai ce l'hai in quel modo Fai Inganuco io lo vedo meglio come 13 13 nelle letture che l'ho visto come mi ricordo con Crusaders Blues per esempio fece una partita mostruosa cioè potrebbe fare il lavoro tipo alla Johanne ovviamente gli manca però poi vediamo perché lui lui va in Francia lui ha firmato in Francia quindi lui conclude adesso la questione del Blacks si non mi ricordo se va Tolone o Tolosa credo Tolone vada però qualcuno forse se lo ricorda ma Fai Inganuco si finisce è anche Tolone quindi ecco quindi da là bisogna bisogna ricreare l'undici diciamo perché alla fine hai Tolone 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 ok quindi per il prossimo ciclo bisognerà capire chi potrebbe essere l'undici perché Jordan c'è e capire come la gestione l'ha entrambi si non sono il livello spaziale c'è anche Caleb Clark che però è un po' lo stesso profilo esatto quello quindi pensando un po' un undici ecco bisogna capire quanto cresce magari un Anai Seturo magari un Emoni Narawa ma sviluppo a lungo termine cioè non è che te la risolvono da un anno al prossimo una stagione da paura con i Chiefs intanto mi fa dire Simone che quando hai detto triple treat ormai Simone mi conosce a memoria perché anch'io è una cosa che dico sempre la tripla minaccia l'ha subito detto una delle parole preferite di Dan oppure quando io sono di solito sono più per andare in rimessa laterale non sempre ci sono mille mille eccezioni che andrà in pali allora quando vanno in rimessa laterale Simone subito e Dan gode mi conoscono non mi conoscono vai vai Simone vai Simone no mi riflesso di quello che dici noi abbiamo perso questo weekend perché siamo andati in rimessa laterale quando dovevamo pensare comunque io poi nella mia partita comunque no 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 quello che dici tu Otto non succederà non succederà però pensa magari mettere l'innerbrow centro e rieco io quello sarebbe il lavoro perché perché il Sudafrica come ha vinto contro la Francia con le palle alte che metteva sul ragazzino come si chiama Bail ragazzino si su Siri Bail su Wokipo di posizione su Isolati è possibile che faccia la stanza no su Bairri diceva Bairri sì era quella l'area di competenza stringevano tutti a sinistra e poi a destra calciavano quindi se tu gli metti un bel Reco Ioani però magari adesso ci arriviamo alla finale perché vi vedo già caldi però prima della finale passiamo un attimo dall'altra semifinale allora partita che c'è chi l'ha amata e sì però è una partita che c'è chi l'ha amata e chi l'ha odiata allora vi chiedo voi dove vi posizionate io non l'ho né amata né odiata però ho espresso un'idea che poi magari vi dico anche a voi l'ho espressa in un video chi vuole iniziare voi siete più tre chi l'ha amata o chi l'ha odiata Simone ha detto è stata la semifinale quindi io l'ho amata l'ho amata a tratti l'ho schifata però vedi vedi ok approfondisci approfondisci vai in termini tecnici se mi devi parlare in termini tecnici l'ho amata l'ho amata poi se mi devo immedesimare io in quello che hanno fatto l'ho schifata cioè perché anche cioè ci sono un paio di situazioni allora due situazioni la prima che tra l'altro adesso parliamo sempre di Pippo spero che ci stia ascoltando però Pippo ha pubblicato anche un video se no glielo passiamo glielo passiamo dove 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 esegue esattamente il piano di gioco perché il piano di gioco era giocare la tuscia e poi andare col piede in chiusa quando però c'era un 4 contro 2 e non l'hanno giocato e anche un'altra situazione dopo turnover che Parle in mezzo al campo nei suoi 22 ha sbananato un calcio in mezzo al campo c'erano già sei difensori dell'Irlanda della della del Sudafrica che hanno sprintato indietro perché è la caratteristica di Sudafrica adesso stanno sprintando ovunque in difesa è tutto mental effort mental effort win the race ma stai giocatori che sprintano cosa fai? fai finta di calciare gioca però la cosa che a me non piace tanto di quest'Inghilterra che è veramente troppo che stick to the plan che segue troppo il piano di gioco che sono troppo quadrati non giocano a una squadra che non gioca più di due fasi gioca una fase per andare verso i 15 per poi calciare con il 9 però il bello del rugby è che non c'è un modo in cui bisogna giocare oppure devi dare delle spiegazioni va semplicemente giocato come tu meglio credi per vincere la partita l'Inghilterra lo stava facendo e probabilmente l'aveva fatto ma secondo me l'ha fatto perché hanno eseguito benissimo piano di gioco ma se li vedevi i giocatori avevano una rabbia avevano eseguito c'era quella 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 foga agonistica che 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 serviva per per approcciare per battere il Sudafrica lì nello scontro diretto fisico che secondo me è una squadra che se reggi fisicamente il Sudafrica non ha un'altra strategia per al di fuori del gioco al piede per batterti perché se tu guardi Sudafrica Irlanda la partita della prima partita del girone che il Sudafrica ha fatto 11 punti non so quante palle ha giocato nel 22 perché adesso non ho la statistica però secondo me siamo tra le 8 e le 10 e ha fatto soltanto 11 punti l'Irlanda ha difeso benissimo li ha retti fisicamente ma erano facili da difendere facevano boom 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 le squadre irlandesi ormai sono abituate a non la fisicità per reggere le squadre Sudafricane e secondo me devono avere devono gli Sudafricani devono gestire un po' più meglio i palloni devono avere un po' più confidenza a portare la palla fuori ecco anche anche nel 22 non devono dare troppo valore al proprio alla propria fisicità ecco 8 tu anche sei uno di quelli che l'ha amata io sì perché mi piace quanto è cinico il gioco sudafricano in generale su come si approcciano loro a tutto quello che è il mental effort la forza la disciplina mentale eppure quando sei sotto e la partita se ne sta andando perché in due occasioni le partite se ne stavano andando riescono comunque a esserci il fatto che hanno trovato per la fase finale Pollard li aiuta per dare proprio il cambio il cambio sia di ritmo che di gioco oltre il resto della Bombo Squad dalla panchina che comunque sia continua il mio dubbio è che arriva la finale più stanca il Sudafrica però ecco come l'ha giocata sta partita il Sudafrica alla solita maniera c'è stata quella situazione in cui lui incrocia Farrell gioca sul su Daily al 27esimo poco prima del caso di Curry quando si attacca con l'arbitro rispetto alla questione di Bonambi in quel momento c'era l'Inghilterra secondo me è riuscita ad arrivare in questo modo fino a quel punto anche oltre le proprie capacità perché ha avuto sempre questa impostazione molto Bortwick molto Leicester molto inglese diciamo del gioco molto vecchio stile perché io e te rotto quando hanno mandato via Bortwick quando hanno mandato via Eddie Jones ricordo che in una live entrambi abbiamo detto la stessa cosa abbiamo detto sì ma lo criticavano per i calci ma vedete che con Bortwick saranno il triplo e di fatti è stata così a Eddie Jones gli dicerano ogni volta sul Telegraph sul Times troppi calci troppi calci non riesci a far esprimere il talento di Marcus Smith lo hanno mandato via è arrivato Bortwick Marcus Smith l'ha proprio tolto non si parla più di Marcus Smith l'ha proprio tolto poi l'ha reintegrato adesso al mondiale in un'altra posizione calci non se ne sono mai visti così tanti però è riuscito ad ottimizzare quello che aveva in mano e quindi alla fine è riuscito a portare i risultati perché alla fine quello che è riuscito a fare Bortwick comunque non è poco portare questi inglesi no no assolutamente ha fatto anche fin troppo bene diciamo alcuni giocatori partiti dalla panchetta che in questa partita nello specifico non hanno aiutato Punipola ombra di se stesso secondo me nell'ultimo periodo non sembra quel Punipola che tu vedi cinico spietato con i Saracens o in generale qualche anno fa quattro anni fa magari quindi ci stanno un po' di questioni sei arrivato alla fine provando anche Mitchell per esempio a nove nell'ultima parte di stagione anche se aveva giocato bene con i Saints hai fatto qualcosa ma ecco ce ne vuole ancora perché il potenziale c'è sempre in Inghilterra a livello di giocatori c'è stata un'ottima partita di Martin in seconda linea ha giocato veramente molto molto bene però per esempio Cartney lo ha a sei adesso ha chiuso la carriera internazionale e anche là si aprono altri sipari cioè si chiudono dei sipari e si aprono degli scenari importanti per capire chi può essere forte in alcuni tuoi però ecco Benerle ha risposto sempre presente sì volevo chiedere a Simone sì assolutamente Benerle ha risposto presentissimo volevo chiedere a Simone questa cosa hai detto che da un lato l'hai amata dall'altro l'hai schifata in qualche maniera quando ti sei immedesimato su quello che dovevano fare perché il ragionamento che ho fatto io sul video che ho fatto ieri esattamente questo cioè tutto è lecito e sono d'accordissimo con te che è addirittura in qualche maniera affascinante e addirittura innovativo l'estremo a cui hanno portato questa partita perché per esempio hanno fatto 63 passaggi in Sudafrica cioè proprio praticamente non muovevano la palla i centri i centri non hanno toccato palla cioè Krill Krill ha fatto zero passaggi zero metri un in avanti è stato un in avanti quando gli hanno dato quando gli hanno dato una volta e tre placaggi ma non solo lui Marchand simile De Allende simile cioè praticamente non si è passati nella zona dei centri e allora io mi dicevo ma che ok è lecito però se tu sei un giocatore e ti dicono in sta partita devi solo allora se sei un'ala devi andare su ste palle alte basta finito del tuo lavoro se sei un centro stai lì in mezzo e ogni tanto magari fai un placaggio non è un po' tra dire cioè chiedo allora Krill intanto ce l'avevo al fantasy e mi ha fatto zero quindi comunque 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 allora dal punto di vista dell'Inghilterra ok tu stai giocando una semifinale contro Sudafrica che si sa che al momento c'ha questa rush defense questa fisicità che è impressionante quindi cosa fai gli do la palla così non ho la loro difesa ok e ci sta come gliela metto gliela metto contestabile in modo tale da poi giocarmi la partita sui rimbalzi sulle palle sporche e perfetto ho Curry ho Earl e Carnelo che sono adattissimi a fare questo gioco poi ho Stuart che mi prende le palle al volo in caso di ritorno contro contro Sudafrica perfetto però secondo me come dicevo prima l'Inghilterra ha fatto solo questo capisci e che questa è la cosa che a me non piace perché ci sta avere quel piano di gioco lì perché è giusto secondo me io se dovessi giocare contro Sudafrica non mi metto a fare i lanci di gioco con touch completa oppure fare miliardi di fasi shape su shape e seconda linea d'attacco perché tanto poi te le leggono esatto fare raddoppi cioè non mi metto a fare queste cose e quindi gliela do la palla ci può stare secondo me e invece gli All Blacks lo faranno così iniziamo ad arrivare perché gli All Blacks non li calceranno tutti a penander gli All Blacks non li calceranno tutti a penander però secondo me che è la differenza allora questa cosa abbiamo Sudafrica e Inghilterra che praticamente hanno deciso di non giocare poi abbiamo altre due squadre in questo mondiale che sono la Nuova Zelanda e la Francia che giocano e giocano tanto però c'è una differenza tra la Francia e la Nuova Zelanda la Francia non sa giocare male e vincere secondo me secondo me la Francia ha talmente tanta libertà che è fortissima giocare quando c'è tutta questa libertà ma quando deve giocare brutta brutta ma dico brutta brutta secondo me non è così brava a farlo non che non lo sappia fare stiamo parlando di giocatori più forti al mondo mentre la Nuova Zelanda la Nuova Zelanda sono tutti quelli che dicono che la Nuova Zelanda ha rugby champagne non è vero la Nuova Zelanda tante volte ti mette al quinto minuto della partita la penander da mischia chiusa 10 prende e ti spara una palla alta seconda seconda tush fake drive il 9 un calcettino dietro e secondo me la Nuova Zelanda la parcerà così la partita le prime 2-3 palle gliele metterà un'alta incrociata un'alta in mezzo del campo un calcettino dietro e giocherà fake drive tantissimi fake drive perché pensare di andare a fare testate con i sudafricani forse non è la cosa più intelligente e questo e tornando sulla parte sulla semifinale perché siamo già passati alla finale perché vogliamo si adesso ci arriviamo ci arriviamo io sono secondo me Mitchell è un giocatore da secondo me da semifinale in Inghilterra per l'Inghilterra ecco secondo me c'è Danny Kerr è meglio secondo me anche Ben Young ha più esperienza avrebbe avuto più spazio avrebbero avuto un po' un filter però ovviamente si è infortunato prima del mondiale esatto secondo me Danny Kerr non è troppo adatto a questo gioco quindi ci sta che sta in panchina e Marco Smith è secondo me l'altro giocatore come il McKenzie della Nuova Zelanda che devi far giocare però McKenzie dici ci sta non che non giochi perché guarda chi ha davanti mentre Marco Smith secondo me sarebbe stato da integrare un po' di più insieme ad Aaron e pensare e perché secondo me uno dice secondo me Marco Smith non gioca in questa Inghilterra perché non fa il gioco dell'Inghilterra però quando noi parliamo degli allenatori che si parla tu devi giocare per il giocatore cioè devi creare il tuo gioco per i giocatori che hai per quello che vuoi veramente per come veramente vuoi far giocare tu la tua squadra perché è una questione di ego personale secondo me Marco Smith doveva essere integrato in questa in questo poi gli hanno trovato un posto lo hanno lo hanno adattato ad estremo gli hanno si è fatto gonfiare la faccia come una zamponia nella partita con Fiji e in qualche maniera ha trovato un ruolo però sono d'accordo con te io l'ho sempre detto qua la chat lo sa io amo i giocatori alla Marco Smith alla Finn Russell anche McKenzie mi piace anche Jordi Barrett lo adoro e io Marco Smith lo avrei fatto giocare però però quando è arrivato Bortwick io la prima live a 8 ho detto vedrai che rispunta Ford e di fatti e di fatti e di fatti è rispuntato e rispuntato Ford per esempio eccomi qua eccomi qua così allora ragazzi andiamo alla finale perché se no poi si fanno si fa tardissimo qua siamo triangolo Barcellona Sofia Dublino bellissimo tre italiani a parlare di rugby uno a Sofia otto è a Sofia io sono a Barcellona e tu sei a Dublino bellissimo fantastico andiamo verso la finale allora vi propongo un gioco uno fa Foster Barra Ninaber e l'altro no scusate Erasmus Barra Ninaber e l'altro fa Jan Foster Joe Schmidt e compagnia bella però interagite interagiamo tra di noi cioè senza per forza passare da me quindi chi volete fare io faccio Erasmus ok allora tu Otto invece sei Jan Foster Joe Schmidt Jason Ryan come preparate come preparate questa partita e interagiamo tra di noi chi vuole iniziare chi vuole vai comincio io allora io baserei tanto sul il fatto che si è visto diciamo un Sud Africa già incontrato pure con la 7 più 1 che quella è stata una partita che secondo me ha dato alla Noa Zeranda anche una dimensione nonostante sia uscita sconfitta magari demolita e mischia chiusa verso la fine con i cambi completi ma ha dato una dimensione comunque di resilienza a livello difensivo che ha fatto vedere dei limiti del Sud Africa di alla fine di segnare quando aveva il primo tempo io immagino il primo tempo in cui ha avuto tantissime occasioni in Sud Africa e non è riuscita a portare dei punti a casa quindi partendo da questo presupposto io partirei con una difesa efficace cinica con i placcaggi singoli dove è possibile ovviamente riuscire a rallentare il loro gioco perché tanto già sai quello che uscirà fuori dal loro gioco quindi palla lenta box kick palla lenta palla al 10 candelone e coprire bene perché tanto loro salgono con i tre giocatori chiamo caso giocano sul lato destro giocano con Colisi il 13 se gioca Kriel e Lala con Arens quindi loro hanno i trailer a tre ogni volta da quella parte più magari un ex e bet random che ti arriva quindi attenzione e prevenzione di quello che si conosce generale bisogna dare un occhio in più nel caso in cui ci sia Willy l'eru in campo che cambia proprio il gioco al piede del Sudafrica con altre opzioni anche di opzioni d'attacco in difesa scusatemi in attacco io come Nuova Zelanda parto passando con meno breakdown possibile se posso mantengo pop pass velocità perché nella velocità crevo il caos che il Sudafrica magari non riesce a mantenere e mettere tutti dei palloni molto importanti anche con i giochi delle ali intorno ad aggruppamento questo proprio veloce veloce quello che potrebbe essere mi è piaciuta ad esempio io ho notato una cosa nell'ultima partita della Nuova Zelanda che secondo me lì io dicevo vediamo che cosa fanno perché qua proveranno delle cose per la partita per la finale quando la semifinale diventa una specie di di così di sparring per la finale e utilizzavano molto Teler vicino al reaggruppamento non so se l'avete visto proprio a provare a sgusciare vicino vicino al reaggruppamento lo hanno lo hanno messo molto in mezzo al campo c'è dall'anno scorso lo facevano anche con Sevuris per esempio ma già l'anno scorso nel championship erano sempre presenti quando si è arrivato sui 15 metri molto Exeter direi però c'è sempre questa possibilità di giocare magari o all'interno del nove che parte e quindi mettersi in quegli spazi o giocare proprio il pop con l'ala vicina che ti entra esterno diciamo sul senso del gioco quello è qualcosa che hanno sempre provato a fare negli anni precedenti con Foster ecco dire con Foster questo si si è visto pure Clark veniva usato così in mezzo al campo Simone Simone ci spara una finezza dice alla esposito alla esposito Simone la memoria storica con cui tu forse hai giocato no Simone con l'esposito vai vai Simone Rassi Rassi entrare nel cervello di Rassi già deve essere un'avventura farei tanto sicuramente giocherai una partita con la consapevolezza che sono forte in tuscia e mischia e che queste cose condizionano tanto la partita e quindi tutti i Mark diventano mischie tutti i Grano ma non è brutta ma guarda che non è brutta quella è il secondo Mark intelligentissimo perché dopo tu calci tu dopo ti giochi una mischia dove sai che vince ti prende un calcio di punizione se non prendi calcio di punizione puoi giocare se non se coprono se non coprono il campo hai più spazio per calciare il gioco fatto è intelligentissimo una cosa sicuramente la sono giocata perché se si prendevano punizione contro erano erano lì ma al momento al momento il Sudafrica non prende punizione contro anche perché gli arbitri sanno che non possono darglielo il Sudafrica sono troppo superiori quindi giochi la partita con questa consapevolezza puoi fare quello che hanno fatto fino ad adesso in attacco il Sudafrica è una squadra che è costruita per fare tre quali riceve il calcio sposta la palla ritorna nei 15 e poi dopo ti butta la palla alta dalla quarta posta del campo se nella propria metà campo vanno diretti in due fasi fuori con il 9 e se no come dicevo prima in tre fasi mette una palla alta con con Libocco Pollard che secondo me giocherà ancora Libocco e poi entra Pollard tipo ancora il quarantesimo secondo me immagino una cosa del genere schieramento 5 più 3 6 più 2 7 più 1 8 ha parlato Ninaber ha detto magari settimana prossima facciamo 8 8 avanti in panchia 8 più 0 ma dipende dipende secondo me quello che anche avete fatto settimana scorsa potrebbe essere intelligente quello che aveva detto con Pippo quindi farli stancare tanto per poi dopo avere i cambi è intelligente quindi quindi andare con 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 7 con la Francia avevano fatto 7-1 7-1 con la Francia avevano fatto 6 6 e mezzo perché poi avevano buttato dentro Furi esatto no no Furi no lo sconfondevo con la Francia vai vai avanti perché avevano invece Macalù invece per quanto riguarda l'aspetto difensivo fare quello che hanno fatto fino ad adesso quindi rallentare rush defense mi aspetterei io mi aspetto dagli All Blacks tanti calcetti gli All Blacks se guardi anche adesso non sono sicurissimo di quello che dico ma al 98% le ultime 2-3 partite che hanno fatto gli All Blacks contro Sudafrica gli All Blacks in seconda e terza fase ti buttano il calcetto all'ala il cross kick all'ala il calcetto profondo perché è verissimo gli All Blacks hanno calciato tantissimo nelle ultime partite no ma io dico proprio con Sudafrica quando gli All Blacks hanno giocato ultimamente con Sudafrica perché Sudafrica è da un paio di anni che ha che ha questa questa difesa veramente che fa paura a tutti e la batti che la batti non giocando magari sempre devi devi adattare la tua strategia ecco mi aspetto qualche cross kick già dal dal primo minuto in seconda e terza fase qualche lancio di gioco da tre fasi con un cross kick in seconda e terza fase ecco però al di là di questo mi immagino direi adesso si stanno divertendo a fare e io comunque rallenterei ogni breakdown come diceva Otto Otto vuole la palla veloce io ho la palla veloce che sono Sudafrica io e Blacks cavolo che te la do e quindi investo molto nel vincere l'impatto e utilizzare il raddoppio dall'esterno per metterti un breakdown sopra i 4 secondi e crearti una palla lenta dove tu dopo sei obbligato a calciarmela oppure a giocare con con la pressione ancora ecco non ti lascerei ammazzerei la palla ogni volta che la vedo no no ma è interessante è bello è il gioco di quello che ti stia divertendo a fare gli allenatori e anche non tanto non tanto per dire che bravi che siamo o che non siamo ma è per aiutare la chat a capire quello che vedranno e allora io vi faccio no ma io mi sto divertendo tantissimo no anch'io 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 ad ascoltarvi e a pensare e allora vi faccio una domanda il point della partita cioè adesso abbiamo parlato un po' della tattica della cosa però in sta partita che tra l'altro i bookmaker la danno 50-50 cioè proprio non c'è nemmeno un 51-49 cioè è proprio considerata una partita con le squadre equilibratissime almeno fino all'ultima volta che ho controllato che cosa potrebbe fare la differenza posso dire una cosa allora innanzitutto tutte quelle che vuoi sapete che piove sapete che piove in Parigi ecco questa è una cosa che fa la differenza quindi sicuramente il gioco al piede sicuramente e e la tush la tush perché si è visto che si è visto tanto secondo me molto di più rispetto con tutta ignoranza rispetto ai mondiali precedenti molto più ricerca e cura del dettaglio intorno alla tush che per tush intendo non la conquista in sé ma come poi sviluppi il gioco il gioco e se guardi quante mete sono state fatte da tantissimi movimenti diversi dagli All Blacks scusami da tutte le squadre in particolare dagli All Blacks vuol dire che si è fatto tanta ricerca secondo me gli All Blacks al momento sono veramente veramente forti perché loro a differenza di quello che dicevo prima dell'Inghilterra che eseguono il piano di gioco quindi eseguono la giocata secondo me gli All Blacks adesso hanno la loro giocata e la sanno interpretare al meglio loro nella giocata sanno che hanno tre opzioni e ti stanno giocando sempre la migliore sempre e ovviamente hanno un certo livello che la giocata la stanno applicando sulla difesa che stanno vedendo quindi la giocata è quella ideale per approcciare quella difesa e in più se hanno la capacità in questo momento stanno dimostrando di avere la capacità di 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 fare la certa giusta e mi aspetto personalmente mi aspetto tanti tanti fintemol e giocate intorno alla 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 frattura sia in chiusa che che all'aperto e oppure mi aspetto un un carries centrale con un'altra fase in senso per poi fare un cross kick da qualche parte un calcettino dietro in seconda fase o addirittura anche in prima io mi aspetto questo degli All Blacks sinceramente Otto ti vedevo sventolare sventolare uno dei tanti rischi di partite giocate al massimo il top di gamma degli ultimi quattro anni diciamo escluso il tour dei Lions dai te lo metto così quindi negli ultimi quattro anni questo è l'apice quindi un cartellino nel bene e nel male può mettersi di traverso in positivo per la squadra che lo riceve o per la squadra che invece ne approfitterebbe a livello numerico quindi questo è purtroppo visto anche però c'è Michi c'è Michi un secondo solo c'è Michi che dice Telea farà la differenza e si mormora dal campus della Nuova Zelanda che abbia già preparato una maglietta sotto per l'esultanza se la mette sulla testa e ragusi muto così dicono non lo so sarei contento sarei contento no vai vai scusa se ti interrotto vai no figurati e quindi quello è uno quello è uno dei punti quello è uno dei punti che può essere un cartellino veramente la situazione si aprirebbe e poi per il resto sì i dettagli quello che dice pure Simone sono tutti i dettagli una presa aerea fatta in un modo un turnover se andiamo a vedere le partite almeno i quarti di finale che sono stati quelli un po' più scoppiettanti con due squadre importanti davanti che c'è la Nuova Zelanda e la Francia molto simili l'Irlanda molto più precisa e compatta alla fine vedi che la Nuova Zelanda segna due mete da rimessa laterale e una su una ricezione di un calcio e segna in poche fasi in tre quattro fasi il Sud Africa cerca sempre la monofase se possibile il turnover e la giocata veloce in pochi secondi per portare avanti quindi c'è molta qualità da entrambi da entrambe le squadre veramente sarebbe il dettaglio vi faccio una domanda vi faccio una domanda prima Fenomena Baraccone che è un po' troll però li vogliamo bene lo stesso perché abbiamo iniziato a capire che è un mezzo troll non è un troll intiero è un mezzo troll ogni tanto si diverte un po' a trollare però diceva una cosa una cosa sensata ovviamente alla sua maniera però diceva fate tutta teoria non capite che il Sud Africa vince per la mischia non per l'Italia infatti nel secondo tempo la mischia l'hanno ribaltata e Beniamino dice scommettiamo che la Nuova Zelanda li mette sotto in mischia e voi quella fase lì come la vedete perché la Nuova Zelanda con Jason Ryan ha fatto un un triplo proprio un triplo upgrade e oggi come oggi la mischia della Nuova Zelanda è una signora mischia non è proprio cosiddetto che vada sotto ma io ti dico sinceramente non sono un intenditore di mischia quindi non mi non mi dilungo in chiacchiere che non so dire nei dettagli esatto la cosa che posso dire è che al momento il Sud Africa ha dimostrato di essere superiore a tutti e che probabilmente farà tanta affidabilità a questa cosa qua e che secondo me gli arbitri potrebbero l'arbitro che è arbitro arbitro Wayne Barnes è normale che sarà condizionato da questa cosa e se non mi immagino una troppi calci di punizioni presi da Sud Africa ecco quello non la vedo una cosa reale ecco mi auguro mi auguro che 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 sarà alla pari perché a me le partite che vengono decise troppo dalla mischia sinceramente tutti i piloni adesso mi mi scriveranno i commenti negativi ma non mi piace non non secondo me deve essere un c'è tanto di più c'è tanto un fair game in tutte le aree del gioco esatto limitarlo limitare il gioco spesso in queste fasi di conquista a me personalmente non mi piace quindi spero di vedere una partita dove la palla esce dai piedi del numero 8 e dove dopo ci sia un gioco pensato piuttosto che adesso mi dicono allora non si pensa se mischia però però sicuramente sicuramente lo statico fa la tanta fedeabilità a me scherzi 8 tour quella fase lì come la vedi cioè non in generale nel rugby ma in questa partita no una allora la nuova zelanda si sulla mischia lavora lavora bene ma non è mai l'obiettivo mentale di superare l'avversario è più una fase di transizione nel senso passo per la mischia per poi giocare al rugby il sud africa passa dalla mischia perché ti voglio arare in mischia quindi c'è la mentalità diversa come ne fanno una questione di orgoglio gli argentini ogni volta altre squadre invece la mischia vedono come ok facciamola finiamola prima possibile la palla deve uscire e poi giochiamo fuori a me piacerebbe tanto vedere però so che forse non avverrà perché adesso lo stanno mettendo negli ultimi 20 minuti e sta spaccando tutti prima ha spaccato Aldegheri e poi la settimana scorsa ha spaccato Genji Genji si Oxen no Sinclair e Oxen c'è e mi piacerebbe vederlo contro Tyler Lomax però è che sarebbe una battaglia incredibile cioè secondo me uno dei migliori sinistri contro uno dei migliori dei migliori destri in questo momento e sarebbe veramente però forse non si incroceranno si incroceranno per poco tempo però occhio perché io sono un po' d'accordo con chi diceva non è detto che la battaglia in mischia venga vinta dal Sudafrica secondo me è molto meno scontato di quello che si pensa anche perché Simone ti comunico che in mischia si pensa un po' di meno dai però ci sono tutti io penso si bleffa io penso che tu pensi che tu pensi so che devo fare molta attenzione a quello che dico perché ci sono tanti che non la penso che non la penso però no io personalmente mi auguro che che non sia una una finale da battaglia in mischia che sia una finale da gioco da qualsiasi tipo di gioco ma che la palla venga giocata per almeno 36 minuti ne è arrivata una cattivissima 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 e tu mi hai fatto una vista Simone no 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 Simone deve aver consigliato alle zebre di non decidere le partite con la mischia non so se hai visto l'ultima partita delle zebre non l'ho vista ma ho letto ho letto mamma mia mamma mia dai dai puoi andare più cattivo se vuoi no ma era cattiva non verso di te era cattiva era cattiva verso le zebre secondo me va bene no 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 la cosa che che volevo magari sottolineare di questo di questo mondiale che che secondo me ci sono state due cose che che tecnicamente sono state un po' contro trend quando si è giocato il vantaggio nei 22 ehm una volta fino all'ultimo mondiale scorso automatico calcetto subito gambling andiamo monetina invece questo mondiale qua si è dato molta più ehm più valore a quel possesso lì è un possesso gratuito ma è purtroppo un possesso che vale sette punti e probabilmente si sta dando iniziando a dare più valore a tenere la palla in mano piuttosto che buttare la monetina nei 22 per poi andare per tre punti no eh no la pensate la pensate anche voi così oppure è soltanto qualcosa che ho visto io Otto sì c'è stato di meno alla fine è vero non è che ci sono stati tanti è stato secondo me più eh il mondiale sull'evasione l'uno contro uno almeno nella parte a gruppi tanti uno contro uno tanti due contro uno ho giocato abbastanza bene ma non ci sono state queste grandi evoluzioni di gioco si sono viste offerte di gioco diverse proposte di gioco diverse con diverse squadre ma quella del del calcetto in fondo per provarci la 50 e 50 no perché poi veramente hanno provato magari a ricostruire si sono viste pure meno tap penalty di quelli che io mi immaginavo io mi immaginavo un o sea tutte giocate veloci preparatine a 5 metri invece non ne ho viste tante nemmeno di quelle che mi aspettavo visto che arrivavano a livello di urc mondiale scusa ci sono stati tantissimi invece niente cioè i bulls ce l'hanno fatto un'altra cosa che a me non è piaciuta di questo mondiale secondo me è che è il mondiale con più simulazioni per via del fatto arbitrage mamma mia questa va contro ogni ogni principio del rugby secondo me bisognerà però però sono sempre le regole secondo me sono sempre le regole che portano al comportamento poi uno può avere un comportamento particolarmente nobile però diciamo che nel momento in cui ti prendi una spallata 100 all'ora in faccia e dici se mi rialzo non succede niente se sto a terra magari sto scemo qua sopra del TMO va a vedere che cosa è successo tra virgolette ovviamente non è scemo nessuno cioè l'ho detto così come esagerazione il giocatore è più portato secondo me a stare a stare a terra io credo che sia un qualcosa che devono risolvere post mondiale trovando una forma cioè devono trovare un qualcosa di omogeneo che non esatto che non inciti la simulazione che poi non è che sono simulazioni però il tipo invece di stare a terra lucu 10 secondi sta a terra a 30 per dare il tempo no no sono simulazioni sono simulazioni ti interrompo perché cioè allora faccio un esempio no no vai esperienze di giocatore vai ho giocato una vita estremo e tante volte sono sulle palle alte quando tu cadi e sai che uno ti ha colpito tu devi stare a terra perché è anche un po' il segnale che arriva di fuori arriva a correre il fisio in campo con la radio con l'annatore che c'è sta a terra ok e questa cosa qua è una cosa che nel rugby fino ad adesso c'era ma era limitata soltanto al gioco aereo adesso se la si porta sui 150 placaggi che si fa in una partita capisci che inizia ad essere troppo secondo me è una cosa che va punita immediatamente perché comunque tu devi tutelarlo però allo stesso tempo non devi ricreare l'ambiente calcistico nel quale noi non ci identifichiamo per niente quindi vanno subito devono essere subito penalizzati ogni singolo atteggiamento di simulazione secondo me però è difficile è difficile a volte no perché ad esempio Otto diceva l'UQ l'UQ che va un po' con la testa a cercare Ferrari caspita cioè e lì è complicato dire assimulato perché comunque il regolamento ti mette in quella condizione lì ma state parlando di quello di Ferrari sì per esempio io l'ho fatto un esempio ho fatto quello ma lui è evidente che non ha simulato Ferrari dice che ha simulato no non Ferrari no 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 l'UQ su Ferrari l'UQ su Ferrari non quello del Benetton ci mancherebbe altro no no lì lì l'ha ucciso no 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 non sono matto no Italia-Francia non so se ti ricordi la meta annullata a Ferrari ah sì 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 certo che l'UQ che è un'azione prima ne parlava anche Pippo la settimana scorsa che dice che secondo secondo lui secondo Pippo e anche secondo tanti lì l'UQ lo va un po' a cercare con la testa che questo non è nemmeno simulazione ancora peggio cioè è proprio andare a cercarti il fallo il fatto che ci vuole anche il coraggio di andare a prenderti una spallata in testa apposta però e lì è complicato poi per l'arbitro cioè come fai a capire o anche quella che hai detto tu l'estremo salta arriva il tipo con la radiolina e ti dice stai a terra l'arbitro come fa a giudicare che in effetti non sei caduto male non secondo me secondo me invece il rugby si è sempre distinto per il suo buonsenso la sua innovazione la sua voglia di progredire quando noi esseri umani capiamo se uno ci sta prendendo per il culo se uno sta facendo finta ok non sempre ma delle volte sì ed è così come quando vediamo i calciatori che lo fanno in maniera evidente anche anche il rugby ogni tanto si vede che stanno facendo eccessiva reazione di quello che realmente è la la quello che è successo magari uno cade sulla schiena e si rotola oppure sta fermo due minuti ecco laddove c'è margine per punire non dico che vanno tutti puniti ma se c'è un 10% che va punito secondo me quel 10% va punito perché sta andando contro i valori del rugby e contro i valori di quello che è un'intera comunità del rugby che è worldwide no e secondo me se si inizia a punire per queste cose qua sono tutti contenti nessuno andrebbe andrebbe contro sono molto d'accordo con te sono molto d'accordo con te faccio l'avvocato del diavolo ossia anch'io tipo Nick White con Faf se ve la ricordate quella dove fece finta via subito fuori lo punisco e neanche lo neanche lo minaccio lo mando un po' più via squalificato tre giornate via perfetto via però in tanti casi secondo me c'è una via di mezzo ossia tipo contatto spalla testa quel contatto c'è c'è veramente io mi prendo veramente la spallata in testa però diciamo che in condizioni normali io mi rialzerei però dico ma perché io mi devo prendere questo contatto spalla testa poi quando ne faccio uno io invece TMO fermo arbitro giudice corte di assise eccetera 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 allora dice ma sai cosa io sto 30 secondi in più per terra fermo il gioco e vediamo se il TMO è obbligato ad andare a vedere che cosa è successo non è nello spirito del gioco però in qualche maniera lo capisco non so se riesco a spiegarmi ma hai ragione quello che dici ma non è nello spirito del gioco ed è quello che il rugby è questo cioè il rugby è spirito del rugby cioè fine tutto quello che va contro lo spirito c'è anche una regola degli rugby sì 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 assolutamente quello che ho citato sì 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 quindi se non è lo spirito del gioco è un'infrazione e va punita secondo me è molto è molto semplice poi scusami non è molto semplice è molto complesso però è per la per l'abitudine che ha questo sport qua è di dovere è suo dovere tutelare i propri valori sono d'accordissimo con te sono d'accordissimo sono d'accordo cioè facevo l'avvocato del diavolo ma fondamentalmente sono molto d'accordo con te e per tutelare questi valori qua io non è che adesso chi sono io per dare una soluzione o adesso posso fare una proposta ma potrebbe essere campata per aria però la mia è una una uno spunto di riflessione che facciamo tra noi tre e chi ci sta seguendo per 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 comprendere che magari nei prossimi anni si potrebbe arrivare a quel punto lì dove ci sarebbero troppe persone troppi giocatori dei giocatori che simuleranno e che tanti regbisti in giro per il mondo non si identificheranno con loro e che andrebbero contro lo spirito of rugby e che secondo me va va prevenuta questa cosa e adesso noi pensiamo e come fai a punirli ma come come facevamo nel nel 1900 sbarcare sulla luna pure ci siamo arrivati nel senso l'immaginabile spesso è molto vicino secondo me se se c'è un commit di arbitri o comunque un board che fanno che si occupano di queste cose il modo per tutelare per trovare il giusto balance tra player Walter e poi ci vorrebbe anche un po' di cultura anche un po' di cultura diciamo magari con gli allenatori con le cose quello che tu dicevi il tipo che ti entra con la radiolina e ti dice stai a terra beh bisognerebbe partire dal fatto che non ci sia questa cosa qui no e quindi certo va bene va bene è stata una bella è stata una bella chiacchierata chiudiamo col pronostico allora su sta finale fatemelo in percentuale dai perché tanto io li faccio sempre in percentuale perché dico sempre ma chi sono io che so i risultati del giorno dopo quindi cerco sempre di bilanciare no allora ripeto le quote lo danno 50-50 ecco a voi vi chiedo di spostare leggermente le quote 50-50 almeno fino a ieri era 50-50 è incredibile vi chiedo di spostare leggermente l'asticella da una parte o dall'altra vai Otto sposto verso il Sud Africa perché sono i campioni in carica perché abituati perché la maggior parte già l'ha giocata una finale come dice Bonambi for Africa e quindi dagli Africa e magari la vincono loro così Erasmus poi allora l'unica cosa brutta se vince il Sud Africa è una è che so quattro anni dei sudafricani che bisogna sentirli per quattro anni questa è l'unica cosa brutta però Simone poi Erasmus te lo trovi lì dalle tue parti l'anno prossimo Ninaber Ninaber ah no è Ninaber quindi quello te l'ha sposto di 5% verso il Sud Africa diciamo che i nortali sono un po' più simpatici sudafricani eh sì questo sì ecco però ho tanti amici sudafricani sono persone ottime tanti e comunque io invece sto anch'io stick to the plan all'inizio della World Cup avevo detto Sud Africa che vince e ancora lo penso e stiferò Nuova Zelanda tanto anche sarò dalla base della Nuova Zelanda ma secondo me vincere la Sud Africa e la motivazione sarà la pioggia ok 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 la pioggia con tutto la pioggia con tutto quello che abbiamo detto ovviamente che agevolerà un po' di più il gioco del Sud Africa ragazzi io veramente vi ringrazio anche io io il mio 5% lo sposto io lo sposto da parte neozelandese invece lo sposto da parte neozelandese allora metti un 10% così fai ancora balance siamo 5-5-3-10 tutto in ordine esatto siamo ancora lì siamo sempre lì si rimettiva da lì comunque ecco questo sì io ho l'impressione che sarà veramente una bella una bella partita perché insomma gli elementi gli elementi ci sono veramente tutti e credo anche che i prossimi tre giorni saranno interessanti perché Erasmus tirerà fuori qualcosa ci saranno sorprese anche pre partita stiamo per vivere secondo me una bella settimanina c'è solo una finale della Coppa del Mondo non c'è solo una finale della Coppa del Mondo così una partitina una partitina così una qualunque una qualunque ragazzi io vi ringrazio Simone grazie mille è stato un grande grandissimo grandissimo fantastico torna torna se ti va uno nei prossimi settimane mesi quando vuoi certo ci sentiamo e vediamo come ritrovarci va bene in bocca al lupo Simone per la tua attività in Irlanda grazie mille grazie anche a Otto ciao ciao Simone ciao 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 buona serata anche a te non so come si chiude quindi chiudi tu sì io chiudo però prima di chiudere volevo solo salutare la chat quindi ciao ragazzi ciao a tutti buonanotte e veramente grazie mille di aver passato la serata qua con noi e ci vediamo nei prossimi giorni con i prossimi video ciao ciao Otto ciao grazie mille ciao 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 ciao